Un borgo antico che spicca dalla collina, sei chilometri dal centro di Roseto, un orizzonte azzurro che disegna il mare dal bel vedere e la tradizione dell'enogastronomia abruzzese. Monte Pagano si prepara a tornare al suo splendore storico, mettendo tra i punti cardine del suo progetto turismo, storicità, bellezza paesaggistica e poi la qualità della sua terra, foriera del divino nettare degli dèi. Colina e Terramani sceglie Monte Pagano come nuova sede e da qui parte il nuovo ambizioso obiettivo, diventare meta di turismo. Abbiamo accolto la proposta da parte dell'amministrazione del comune di Roseto di spostarci qui a Monte Pagano. E questo è stato un po' il culmine, il coronamento di un percorso iniziato già diversi anni fa, già nel 2012, in cui il consorzio ha cominciato a creare una sinergia con il comune di Roseto e in particolare con Monte Pagano. Un consorzio di produttori di vino non può che avere la vocazione della celebrazione del territorio. Questa sinergia con Monte Pagano vorremmo fosse percepita come simbolo dell'intento di legarsi ulteriormente al territorio. Con orgoglio e soddisfazione sono proprio i rappresentanti del territorio di Roseto a ricordare pubblicamente. Oggi, quando si nomina Monte Pagano, il pensiero corre subito ad una persona. Gianluca Ginobble, vincitore dello scorso festival di Sanremo, che come un ambasciatore nel mondo ha portato la sua terra in giro per i palchi internazionali. A lui va il ringraziamento degli amministratori pubblici e da qui si riparte per riportare la sua città all'originario splendore. Alla presentazione del progetto non c'era il giovane talento impegnato nel tour mondiale, ma suo padre Ercole che ha commentato così l'amore di suo figlio per la città. Gianluca sta veramente portando grande notorietà a Monte Pagano, che è il suo paese dove noi viviamo e chiaramente anche a Roseto. Certamente può fare da traino questa sua visibilità, questa grande pubblicità. Può essere un volano sicuramente importante per far conoscere ancora di più e far sviluppare, creare ancora più turismo e più interesse intorno a questa zona, che devo dire però è veramente bella.